I fantastici quattro del popo mondiale sono tornati, dopo ben 40 anni gli Abba pubblicano un disco di canzoni inedite, Voyage, un viaggio nelle sonorità del passato che guarda però al futuro e alla modernità. La band svedese, icona degli anni 70, prepara per il 2022 uno spettacolare e ipertecnologico tour. Prima andata Londra, 27 maggio, gli Abba in versione Avatar e una band fisica di 10 elementi che suona dal vivo nella nuova Abba Arena, costruita tutta per loro. Una nuova scommessa fra la nostalgia dei vecchi successi e la speranza di meravigliare il mondo ancora una volta.